Ciao, sono Maya Sansa e sono molto felice di dirvi che quest'anno il film Red Snake o Sisters in Arms sarà presentato al Festival Immaginaria. Ci saremo sia io, che sono una delle protagoniste, che la mia regista, Caroline Forest, per parlarne con voi dopo la proiezione. Il film verrà presentato il 19 giugno di pomeriggio, credo, è un film importante che racconta del coraggio di un gruppo di donne, donne ribelli e combattenti. Venite numerosi. Ciao.